In questo modo, con i valori cristiani al centro della vita pubblica, non tagliate fuori Berlusconi? Questa mi pare una grande stronzata. Allora faccio la domanda così. Berlusconi è un bravo cristiano? Io so che è un bravissimo Presidente del Consiglio perché ha garantito nel corso di questi anni una regolazione pubblica coerente con la tradizione cristiana italiana. L'Italia rimane il paese che ha una regolazione che vuole evitare la manipolazione della vita, che vuole garantire l'interruzione di gravidanza in condizioni di compiuta assistenza pubblica, finalizzati innanzitutto ad evitarla, che vuole considerare l'istituto matrimoniale come quello rivolto a un progetto di lungo periodo tra un uomo e una donna potenzialmente votato alla procreazione nel rispetto peraltro di tutte le relazioni affettive. Da questo punto di vista l'Italia ha visto un'influenza della cultura cristiana consolidarsi nel corso di questi anni. Berlusconi è un buon cristiano? Non sono io il suo confessore, non posso giuridare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.